La Regione passa alle province le competenze ma non la documentazione. Questa è la denuncia che fa oggi l'Associazione dei Consumatori Robin Hood di Teramo perché alcune imprese si sono rivolte a voi per denunciare quanto sta accadendo. Sì, alcune imprese si sono rivolte a noi per denunciare questo fatto. In pratica il fatto che hanno al suo tempo, 2025-2026, consegnato la documentazione alla Regione quindi erano tenuti fino a quando non c'è stata questa delega a comunicare le emissioni in atmosfera o altri dati e di colpo oggi si vedono richiedere tutta la documentazione che abbiamo già presentato. Siccome bisogna fare progetti, avere documentazione di carattere tecnico che ha un costo anche elevato per cui noi non riusciamo a comprendere questa richiesta e soprattutto noi prendiamo spunto per questa situazione per fare una denuncia di carattere più generale che riguarda la non applicazione del Gebbassanini. Il Gebbassanini prevede che se uno fa una dichiarazione e dice che ha dei requisiti quella vale. Dopodiché è l'ente che riceve quella dichiarazione che va a verificare a campione oppure su tutte quante le posizioni se quella dichiarazione è vera e falsa chiaramente se non è vera ci sono le conseguenze di carattere penale. Quindi a distanza di tutti questi anni siamo veramente sgomenti che questa legge non viene applicata. Il caso della provincia, secondo l'Associazione dei Consumatori, serve ad accendere riflettori su un malcostume diffuso nella pubblica amministrazione che non tiene conto della norma e vessa i cittadini. L'Associazione pertanto ritiene inutile e soprattutto dispendioso per le aziende la riproduzione di documenti già consegnati.